La mediazione culturale è stata al centro di un seminario a Palazzo Lascaris e per l'occasione è stato presentato il volume Linee e guida e buone prassi per il corso di base per mediatore culturale, curato da Michele Grisoni e Manuela Colombero. L'evento è stato promosso dal gruppo di ricerca In Crea Sé, sorto con l'obiettivo di contribuire al benessere sociale e al conseguimento di uno sviluppo sostenibile, inclusivo, equo e stabile.